Il Messino Grazioso Come si sta in questo posto? Io sono stato per 30 anni un vagabondo Dove si rava? Marche Abruzzo Marche Abruzzo Che città è l'Abruzzo? Tutte Tutte? Pescara, Ghieti, Aquila E le Marche? E lui teme, la stessa cosa Sono un mappamondo Buon appetito Me ne vado in pensione Che lavoro faceva? Tecnico commerciale per un'industria di fertilizzanti Bene, la ristituzione di gotti e di crude Buon appetito dal ristorante 1941 di Acquaviva Picena Buon appetito